Ci vediamo là, come va? Ci vediamo dopo, sì. Oh, amico, sei venuto? Che eleganza, bene così. Ci sono persone importanti stasera. Vieni, ti porto dai ragazzi, andiamo. Oh, guarda un po' che sorpresa. Chi è il bellone? Questo bellone ha appena centrato una derapata da 150 metri tra la i5 e la Turner. Oh, la spandata più controllata che abbia mai visto. Deve essere stato grande. Non vedevo Spike così eccitato da... Ah, è sempre così eccitato. È per questo che mi amo. Robin, sarà dura stargli dietro. Fidati piccola, lui ce la fa. Infatti ora lo porto a conoscere Travis e magari spostiamo qualche auto per fare spazio in officina. Andiamo, amico. Hola, Amy. Questa è Amy. Niente male, eh? Oh, ti amo anch'io, piccola. Travis? Yo. Voglio presentarti un amico. Ah, sì? E perché? Dovresti vederlo in azione. Che roba, un controllo senza limiti. Bene. Così hai attirato l'attenzione del nostro speed racer. Puoi dirlo forte. È un tipo davvero tosto. E questo è un buon periodo per correre. Ci sono talenti di prima scelta in città pronti a fare la storia. Serendipità, fratello. Stelle allineate. Il momento ideale per modificare la tua auto. Qualunque cosa ci sia in quella gabbia toracica, hai l'occasione di dimostrarlo là fuori. Portale a sgranchirsi un po'. Forse una di queste bastarde ti prenderà in simpatia. Benvenuto nel clan, fratello. A fare fatto. È bella, non è vero? Dai, Amy, devi solo starla sentire e assicurarti che faccia rifusa come dovrebbe. Ehi, ciao. Ti prego, ti prego. È parcheggiata proprio qui fuori. Spike, te lo ripeto. C'è gente che non ha problemi di soldi che mi paga per questo, quindi... Davvero? Quindi è così? Beh, sì, è così. Aspetta. Ecco. Wow, wow, io mi sento molto meglio. Ti pago, Amy, lo sai. Mi paga tuo padre, vuoi dire? Piano, questa giacca costa 1200 dollari. Ecco, appunto. No, io l'odio. Non importa se sei il miglior pilota da questa parte della 101. Per quel che la riguarda, non sei nessuno se ti manca il grano. È molto poetico. Ed è anche... È anche la pura verità, perciò. Sei pronto a spassartela un po'? Forza, amico. Ci troviamo qui davanti e andiamo a fare un giro. Ok, ragazzi. Gli altri ci aspettano. Diamoci dentro. Faccio E E Grazie a tutti 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 Grazie a tutti